Tutto un sera l'ultima volta l'ho salutato e sono andato a Trento e quando sono arrivato la mattina dopo la mamma mi fa che non trova più il papà, l'ho chiamato più e più volte e ho già capito che era successo qualcosa di grave. Secondo lei perché ha deciso di farla finita? I perché non si sapranno mai, forse la situazione del giorno prima non è stata troppo grande per lui ma sarebbe stata troppo grande per chiunque trovare un ragazzo così di 24 anni, paese, qualsiasi persona che abbia un cuore, una mente sarebbe sotto shock. Secondo lei può essere che sia stato molto duro l'interrogatorio? Io ho assistito tutto il giorno perché era sulla panchina lì, tutto il giorno giustamente le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro, però un uomo di 59 anni, dopo aver trovato un ragazzo così, tutto il giorno davanti a due carabinieri che sono stati gentilissimi. L'ansia arriva, siamo in un paese, passa uno, passa l'altro, il bagno lo seguivano, era piantonato, ti stanno mettendo in croce. Poi è arrivata la scientifica, si sono chiusi quello stanzino lì e io ero qui fuori, sentivo che erano accese le domande, non sentivo cosa dicevano. Poi l'hanno tenuto in caserma dalle tre di pomeriggio fino alle sette e mezza di sera e è arrivato a casa alle sette e mezza che era molto stanco, sotto shock, mi diceva un buco nello stomaco, sono sotto shock. Può essere che sia successo un incidente? L'avrebbe detto, quindi soprattutto per le dinamiche tutto il giorno e le versioni raccontate sono sempre quelle, quindi no. A suo padre cosa aveva scritto nel biglietto? Dove l'ha lasciato? Il biglietto l'aveva lasciato sulla macchina con scritto non datemi colpe che non ho. C'è un ricordo che le viene in mente? Non voglio, non li tengo per me, ricordi. E avevate un buon rapporto? Sì. Sì, sì.